Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Siamo molto appassionati di storie. Miti e leggende ci hanno sempre fatto impazzire. È molto probabile che molti di quelli che dirai oggi, già li so perché il super appassionato è lui. Sì, io sono appassionato, sì. Cioè, quindi veramente è un'imboscata, mi avete fatto, ragazzi. È un tranello, esatto. E io sono sempre rimasto affascinato, perché poi Giovanni ha un certo savoir-faire, un certo saper parlare, esatto. Così dicono, così dico. Scopriremo stasera se è vero. Tipo la storia del Monaciello, la storia di Celestina. No, vabbè, ma tremila. Tutte storie particolari, campane, napoletane. Diciamo alcune le so grazie a lui. E in più, di recente, sono venuti anche quei due geni di Napolimania. Non so se conoscivi Vincenzo e il padre. Sono un'istituzione. Loro sono la storia. Napoli in carne e d'orso. Esatto. La storia di Napoli, letteralmente. Vincenzo che ha avuto un grande insegnamento del padre, ma lui ha una cultura pure eccezionale per essere un ragazzo di venti e passanni, ci ha un pochino, insomma, raccontato qualcosa. Poi chiaramente, essendo Napolimania, ripeto, un'istituzione, non sono dei cantastorie, dei raccontastorie, e non fanno specialmente quello, non abbiamo raccontato chissà quanto e cosa, ma visto che a noi miti e leggende ci appassionano da sempre, questo è quello di cui potremmo discutere oggi. È la nostra Bibbia. Tu oggi sei la nostra Bibbia. Ok, allora io già me la lancio una. Voi vi avete detto il munaciello. Sì, sì. Ma voi conoscete Pietro Barliario? No. Ok. Mai sentito nemmeno. È la numero uno. Allora, è il mago nero di Salerno, letteralmente. Cioè, praticamente... Io stasera scomazzo. Quando succede qualcosa di brutto, a Salerno c'è addirittura una strada intitolata a questo Pietro Barliario, che non si sa neanche se sia esistito. Comunque, quando accade qualcosa di brutto, ma alla città o qualcosa del genere, si dà la colpa a questo signore che, appunto, non si sa, c'è una leggenda che lui preparava pozioni, che insomma era un personaggio, che poteva essere sia buono che cattivo, perché a volte invece aiutava i salernitani. E la cosa ancora più strana è che è una leggenda che si trova in tutto il sud Italia, sotto vari nomi. Cioè, tu lo trovi anche in Abruzzo, questo Pietro Barliario. Questa figura. E non si sa chi sia. Ma tu pensa a questo poveraccio? Questa entità. In caso in cui questa persona sia effettivamente stata tra noi. Pensa, poveraccio, ogni volta che succedeva qualcosa, tutta la città che gli andava contro e che lo malediceva praticamente sempre. Pensa quanto si rivolta nella tomba. Mamma mia. Sì. Che vita triste che ha fatto, poveraccio. Ma non ho capito tutte queste vicende, queste storie, per esempio questa di Pietro Barliario. Barliario. Tu come fai a saperla? In realtà le incontro. Cioè, allora, sono le storie che mi cercano. Quello è il concetto. Ah, bello così. Cioè, una volta, ma tanti anni fa, proprio quando apri Storie di Napoli, stavo, era una notte d'estate, e dico, vabbè, vado a vedermi un poco di tv. Comunque mi capita, ma così completamente a caso, questa storia della dieta mediterranea. Ok. Quando si parla di cibo si parla sempre bene, quindi andiamo a vedere. Hans e Keys, questo studioso americano, che è stato il primo che ha codificato la dieta mediterranea, mediterranea, viveva a Pioppi. Figurati, c'è di Salerno. E ancora adesso c'è il centro della dieta mediterranea, insomma, ormai è un sacrosanto, e pensate, ho detto, beh, ok, prendi il telefono, inizi a prendere appunti, e poi sono andato a fare le mie, chiaramente, le ricerche. Così ci sono le storie. Cioè, tenete conto che, quando cammini poi per Napoli, ci sono tante di quelle strade che hanno nomi strani. Non so se conoscete la parola Maramaldo, no? In italiano. Maramaldo. Maramaldo, una persona vigliacca, qualcuno, insomma, che infierisce su una persona inerme, eccetera, eccetera. Era un napoletano, tale Fabrizio Maramaldo. Ecco. E c'era, c'è ancora oggi una strada, via Marramarra, che è una delle traversine di Corso Umberto, nel Borgo degli Orefici, che era la casa di Fabrizio Maramaldo. Praticamente questo signore, parliamo del XVI secolo, era un mercenario, quindi guidò, praticamente, l'esercito della corona spagnola contro i fiorentini. Catturò il capitano di Ventura, invece il capitano fiorentino, scusate, lo catturò, e dopo averlo disarmato lo torturò. Francesco Ferrucci fu torturato e lui disse Maramaldo, tu uccidi un uomo morto! E pensate voi che questa storia è stata tramandata e ora il cognome di questo povero Cristo ancora oggi è usato per indicare il vigliacco in italiano. Allora, io ho già carito, questa è una di quelle puntate in cui mi posso accomodare. E stare in silenzio. E poi parcare il mio microfono, perché io adesso ascolto. Ma infatti... No, no, anzi, ragazzi. Cioè, tu veramente te le vai cercando, le storie? Sono loro che vanno cercandomi, è diverso. E hai scelto di fare questa cosa... Ora, non credo che tu lo faccia da solo sicuramente, credo che sei 15 persone, ecco, vedi. Ah, cioè, siete una casa editrice. Avete scelto di andare contro tendenza a fine 2023, ormai. Quindi, insomma, sulla soglia del 2024, scegliendo di, insomma, esordire con la pubblicazione cartacea. Sì, questo è in realtà... Questo è il quarto numero, vero? Il quarto numero, è uscito nell'estate del 22, il primo. 22, ah, giusto, perché è semestrale. Sì, è semestrale, esattamente. Come mai poi il cartaceo? In realtà, per spirito di collezione, esisteva già una rivista molti anni fa, cioè, anni 90, che si chiamava Campania Felix, che fondamentalmente era una storia di Napoli antelitteram. E, ecco, riscoprendola proprio in tutte queste letture che ho fatto, pensate che un giorno io trovai questo lotto a Torre del Greco di questo signore che si stava liberando la, appunto, la libreria di casa, della nonna, queste classiche cose, insomma, un po' così. Ah, ma tu sei quello di storia di Napoli? Sì. Tieni, queste te le regalo. Oh, è bellissimo. Cioè, quindi questa è stata la storia. Io ho andato a comprare un libro e questo mi regala questo lotto enorme di Campania Felix e ho detto, oh, guarda, cioè, vedi, è una storia ricorsiva, cioè, ritorna sempre. E ho detto, no, là dobbiamo farlo risuscitare dalle proprie ceneri. E infatti si chiama Storie Campane, non Storie di Napoli. Proprio per differenziarlo, perché secondo me Napoli non esiste senza la Campania, anche se la Campania è un concetto recente, in realtà. Cioè, tenete conto che la Campania è nata nel 1970 alla regione, quindi in realtà prima non esisteva, però è una rete, è una rete. Napoli non esiste senza Salerno, non esiste senza Benevento, non esiste senza Caserta, non esiste senza Avellino. C'è chi dice esattamente il contrario, invece. Eh, no, e invece no, perché Napoli su questo è prepotente. Noi napoletani, ragazzi, siamo in questo caso troppo autoreferenziati. Hai ragione. E quindi ci mangiamo anche spesso la comunicazione delle altre province. Se io, invece, ho voluto anche su questo spostarmi proprio di residenza da Napoli a Avellino proprio per questa ragione, perché Avellino è centrale in Campania e io in 40-50 minuti riesco ad arrivare in qualsiasi provincia e le voglio esplorare tutte. Cioè, voglio utilizzare il nome Napoli non solo per parlare di Napoli, ma per parlare di tutto quello che abbiamo. Ragazzi, ma non avete idea di quello che c'è? Però posso essere cattivo? Devi essere cattivo. Solitamente chiedi no la Caserta, Benevento, Avellino, tutti quanti all'estero poi dicono o anche fuori Napoli, sono di Napoli. Eh, vabbè. Eh, ragazzi. Eh, vabbè. È un dato di fatto. Ma diciamo, vabbè, fammi fare l'avvocato adesso. Prego. Siamo napolitani, si dicevano così, i cittadini del Regno di Napoli, genericamente. Salviamoli. Salviamoli tutti. Ci può stare. Un po' preso per i capelli, però va bene. Conocciamo gli avvocati. Ci può stare. Ci può stare. È bellissimo, anche questa cosa che tu dici dello spirito di collezionismo. Qui è più roba sua. Fermati, sei un collezionista? Ah, sì. Che collezioni? Quando mi... Eh, dipende. Tutte cacate, quindi puoi dire qualsiasi cosa. Certo. Ma fammici pensare. Sono stronzate. Tutto quello che colleziono lo vedi là. Dai, trofei della PlayStation, insomma, qualsiasi altro tipo di cosa. Ok, sì, sì, sì. Mi trovo. Ah, sono... Vabbè, inutile dirvi anime e manga. Ci sta. Con Evangelion o la collezione di qualsiasi cosa tu possa immaginare. Eh, quello non è... Quello è forse più campionato. Sì, sì, quello è più roba mia. Che comunque con Napoli è molto attinente. No, no, no. Certo che però se mi fai uscire una leggenda giapponese con Napoli in tir... Cioè... Tu dici? Tu dici io... C'è qualcosa... C'è anime, manga e Napoli... C'è una strada di Napoli che ha un nome giapponese praticamente. Via Kagoshima. Via Kagoshima, sì. Perché in Giappone c'è il gemellaggio con questa città e Kagoshima o Kagoshima che si voglia e c'è Via Napoli praticamente lì Sì, sì, confiata. Che si chiama? Cosa? Non si chiama Via Napoli. Non si chiama Via Napoli, però. Siamo proprio Via Napoli. Cusso-Napoli perché loro ci hanno dedicato molta importanza e invece noi questa stradina al vomero... No, no. Loro ci trattano bene e noi siamo stati un po' più cattielli però sì. Ma tenete conto che la prima città gemellata con Napoli non era Kagoshima ma Nagasaki quella che è stata bombardata. Eh, no, dico c'è una via Nagasaki... No, no, no. Ok. Non esistevano i gemellaggi tra i comuni ma pensate che il governo giapponese tra il finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento lì del Giappone la mandava nell'Occidente e c'erano queste cartoline chiaramente per invitare i turisti i primi turisti dell'epoca che erano tutte persone ricche inutile dirvelo a vedere Nagasaki proprio perché era la città più occidentale del Giappone e pensate che lì c'erano mercanti portoghesi dal 1600 in realtà li massacravano quindi è un altro discorso Ah, un po' attraverso un po' attraverso però poi insomma superate queste piccole divergenze tra i giapponesi e gli occidentali ci sono capite alla fine queste cose da niente sono capite poi dopo la seconda guerra mondiale inutile dirvi che Nagasaki non c'era più e quindi sono interrotti i rapporti tra il Giappone e il mondo occidentale e poi sono stati ripresi con Kagoshima nel 1960 quindi noi abbiamo questo gemellaggio ma in realtà nasce molto prima perché vi posso parlare del Samurai del Duce Ah tu che stai dicendo? In che senso? Cioè nel senso Mussolini aveva un samurai? Sì Cioè con l'armatura la katana e tutto il resto? No vabbè tenete conto insomma non erano più i tempi però quanto sarebbe stato bello Fighissimo sicuramente però voglio sapere del sapore del Duce guardate che gliel'hanno regalata al Duce questa pronto un'armatura giapponese originale che si trova ancora oggi a Roma se voi andate al Quirinale troverete la appunto tutta l'armatura giapponese del periodo feudale che è stata regalata al Duce perché tenete conto che l'autore io sto girando perché sto cercando di ricordarmi un attimo il nome no quindi ora non ci teniamo non siamo fiscati voglio dire una cosa noi tutto quello che stai dicendo lo diamo per scontato come se fosse vero cioè noi non facciamo fact checking perché per me andate qua dietro me lo trovate a prescindere se la vediamo l'armatura è una figata a prescindere però noi la vogliamo vedere perché è figa questa cosa ci stai raccontando non perché dobbiamo vedere se è vero noi ci fidiamo di quello che ci stai dicendo a prescindere bisogna andare sul sito storianapoli.it e lo si trova subito quindi basta cercare samurai, duce e tendenzialmente lo trovate voi siete ovunque a 360 gradi sì siamo un gruppo editoriale adesso siamo il più grande in Italia oltretutto siete il più grande gruppo editoriale in Italia chiaramente non editoriale in Italia perché sennò viene mondatore e mi fa causa certo no siamo il gruppo editoriale di promozione regionale ovviamente è chiaro è chiaro è chiaro arriva la letterina sotto la porta di cazzo potrebbe dire qualsiasi cosa io la darei per scontata vera ragazzi è un ottimo attestato di stima nei suoi confronti sì sì qualsiasi cosa lui dice tu lo dai per me sono emozionato ragazzi aspetta ecco qua eccolo qua ok ci sta più in alto la barra di ricerca sul nostro sito non ha caricato bene no la barra di ricerca che il nostro computer non ha paleggio non gli piace non gli piace cerchiamola su google però siamo sicuri arukishishimoi ecco mi è venuto in mente grande ho visto il sito e mi è venuto in mente ok così sì sì no no arriverà arriverà comunque basta cercare su google arukishishimoi ed esce ci sono anche le fotografie c'è anche un bellissimo libro che è stato scritto su di lui e tenete conto che lui era un giapponese era ossessionato letteralmente ossessionato da Dante e poiché noi a Napoli vantiamo la prima scuola orientalistica del mondo occidentale che è l'università orientale eh certo tenete conto che c'era anche la prima cattedra giapponesa in Europa e tenete conto quindi che il suo professore di italiano in Giappone a Tokyo gli disse vai a Napoli perché solo lì chiaramente potrai trovare questa connessione tra il mondo occidentale e quello orientale lui viaggiò nel 1906 se non ricordo male a Napoli e tenete conto che ci sono una serie di aneddoti bellissimi su appunto sulla sua figura perché lui era un giapponese che parlava giapponese e napoletano non parlava italiano quindi tenete conto che ci sono storie pazzesche cioè di quando lui si faceva portare lui viveva l'infrascata che sarebbe praticamente l'attuale via San Notorrosa quindi tenete conto che quando si faceva portare dal cucchiere a casa sua ovviamente è inutile dirvi che un po' come accade ancora oggi si diceva vabbè questo lo facciamo nuovo nuovo e pensate che lui racconta in una lettera al mattino che questo cocchiere per tutto il viaggio lo riempiva di male parole lo sfotteva sto porto sto era cortissimo era bassissimo infatti se lo vedete ci sta lui con questo quadro del duce che è più alto di lui sono delle allucinanti e tenete conto insomma a un certo punto comunque dice quando scende ovviamente gli dice una cifra pazzesca adesso il giapponese basso basso lo prende dal babo e lo sotto inizia a riempirlo di male parole in napoletano che da morti a non fine e questo va wow chi sei più napoletano che me no ed è una storia che sta scritta sul mattino ragazzi che ha scritto di suo pugno questo Ruki Shishimo che fu mandato anche poi volle iscriversi come volontario per l'esercito italiano nella prima guerra mondiale conobbe D'Annunzio diventò il migliore amico di D'Annunzio e tenete conto che nell'impresa di fiume lui recitava poesie in napoletano e in giapponese proprio per chiaramente far esaltare e poi si ossessionò con Mussolini si ossessionò cioè per lui era una sorta di dio e fu proprio lui la persona che creò i primi legami per fare l'asse Roma Tokyo-Berlino tenete conto cioè questo è un uomo ora lo stiamo raccontando quasi come una macchina come una macchina storicamente importante gigantesco gigantesco che però nessuno conosce nessuno conosce e lui è morto a Tokyo nel 1956 tenete conto che lui non rinnegò mai la sua fede fascista c'è un'intervista di Montanelli che appunto lui lo chiamò l'ultimo samurai del duce perché lui anzi mi fa schiattare all'erita perché parlava di Mussolini napoletano e disse no Mussolini poi quando si è alleato con Inter è asciuto pazzo ecco qua wow ragazzi personaggio assurdo ecco non penso che sia stato lui personalmente a dirti queste cose quindi l'hai dovuto leggere non voglio insomma alcune storie ti raggiungono il signor Yamaguchi eccolo però tipo una storia del genere tu samurai napoletano è vero ragazzi è una storia di Napoli sta al sito di Federico sotto esattamente e c'è anche quel libro lì che era molto molto bello che appunto eccolo qua questo per dire tu una cosa del genere come l'hai scoperta leggendo cosa sai che questo non me lo ricordo però è capitato appunto sempre in queste questi pellegrinaggi online o leggendo parlando con molte persone questo no questo non è solo una pubblicità questo è una pubblicità vedi tra Napoli e il Giappone eccolo qua vedete questa è la guerra vista da un giapponese e probabilmente hai letto questo libro qui eh sì no ma sapete anche come scavando a Portalba nei nei vari nei vari negozi nei vari negozietti sei andato e guardate ragazzi eccolo qua vedete lui Mussolini e l'armatura di cui vi parlavo madonna era proprio quella sì 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 tenete conto che invece Mussolini a sua volta quando venne in Giappone proprio invitato dal lui era un professore dell'orientale tenete conto eh lo ha insegnato giapponese fino a quando chiaramente l'Italia lui era un professore all'orientale era professore giapponese all'orientale tenete conto di questo è stato il terzo professore giapponese nella storia dell'università orientale e lui si è andato disgustato dall'ingresso in guerra dell'Italia perché lui era contrario chiaramente invece a Hitler alle ideologie naziste però lui se ne andò disgustato disse no questo non è più né il mio fascismo né la mia guerra e se ne torno in Giappone però tenete conto e si isolò completamente sia dal governo giapponese che dal governo italiano però tenete conto che è un personaggio assurdo assurdo e comunque invitò Mussolini in Giappone e lo fece diventare testimonial di una bibita cassata c'è uno spot di Mussolini che promuove una bibita cassata in Giappone se tu mi trovi se tu mi trovi veramente su YouTube Mussolini che dice bevi di questa coca cola io esco pazzo ora con l'intelligenza artificiale lo potremmo fare sì sicuramente mi ha affascinato tantissimo quello che hai detto prima riguardo i libri cioè ragazzi io penso sempre il cartaceo quanto è diverso dal digitale e ti pare una persona ignorante poco colta che non legge libri però nel senso ma a livello di fascino no a livello di utilità ora ti spiego perché se andassi online e trovassi una notizia del genere direi che stronzata sicuramente fake leggendola su un libro la legittima fisico no perché no ci vogliamo far bannare da questa trasmissione da tutti i social puoi dire tutto quello che vuoi posso parlare è stato uno spazio aperto abbiamo appena parlato di duce fascismo quindi figurati vogliamo andare peggio pesante pesante vai ok benissimo allora mi rovino tutta la mia carriera vai è questo il momento vai aspetta aspetta non ci sono tagli quindi quello che dici non ho problemi vai sono con te ragazzi io parlo di storia quindi non parlo a titolo mio io sono assolutamente apartitico a tutto io sono un portavoce quindi sono un ambasciatore è un ambasciatore non portapena tenete conto che è vero i libri sono interessanti ma ragazzi i libri sono stati scritti da esseri umani e dicono tante di quelle cacate in mani ma proprio gigantesche che non avete idea sia quelli moderni perché tenete conto che ci sono ad esempio molte guide moderne di napoli scritte da autori contemporanei non nominerò nessuno sono copie di copie di copie di copie di copie di cose antiche ora la cosa più stupida sono questa non è una cosa brutta volevo dire le pietre del Gesù la melodia la canzone il lavoro di Dio ma tu non la sai sta cosa no non la so si è sempre la leggenda dice che sulle il ragazzo del mestiere lui dice la cosa vera io dico la sciocchezza io dico solo la sciocchezza lascio Federico dire poi la cosa vera ok si dice che i mastri pipernieri quando lavoravano le pietre che sono servite per la facciata della chiesa del Gesù Nuovo yes allora facciamo un passo ancora più indietro sulle pietre che sono sulla facciata della chiesa del Gesù Nuovo ci sono alcune incisioni ok a noi incomprensibili nel senso tu vedi semplicemente dei tagli all'interno di queste pietre aliene non sai a cosa sono riconducibili la leggenda vuole che quelle pietre siano da contestualizzare all'interno di un pentagramma e che vadano lette come una melodia particolare ok io a una volta ho sentito questa cosa ho pensato che stronzata no perché sarebbe picchissimo sono felice del fatto che avevo ragione perché invece la realtà è che semplicemente erano come dire dei modi per capire come farsi pagare ecco qua c'erano 10 persone io mi scelgo la x tu ti scegli la y se non gli scegli la z e ovviamente più pietre lavori più vieni pagato no quindi ognuno si metteva il suo segno cioè alla fine qualsiasi cosa c'è sempre il dietro il denaro questo è le mani di questo perché è vero hai ragione le mani di questo la risposta è è sorda sì ma pensa il ricamino che ci abbiamo fatto attorno per tanti anni cioè quindi si è sempre detto questo esatto ma in realtà in realtà si è detto dal 2010 ragazzi ah sì sì c'è un articolo di un signore folle ma sì no vabbè ho rispetto parlando insomma che il signore è ancora in vita però tenete conto è un articolo di un signore che lo pubblicò insomma su un noto giornale che raccontò questa sua ipotesi anche in un libro da qui si è poi richiamata tutta una narrazione e non voglio entrare ancora nella tomba di Dracula perché sennò poi veramente questo è vero ah che ci dovrebbe essere la tomba di Dracula a Napoli per l'amor del Ciro anche qui però diciamo ci sono una serie di ricostruzioni ora non si sa dove sia morto Dracula eccetera eccetera Vlad Tepes però da qua a dire quello è Dracula c'è la tomba ci hanno fatto il busto no Federico in realtà qua cadiamo nella trappola dei nostri hater ti dico subito che sotto la maggior parte dei nostri video su youtube ci sono persone perché chiaramente per fortuna questo podcast viene visto un po' in tutta Italia mi piace però noi parliamo principalmente quasi soprattutto con napoletani soprattutto di Napoli ok essendo di questa città in molti in molti video ci viene commentato ovviamente parafrasando tipo ve la cantate ve la suonate sempre voi siete molto quest'autofellazio continua che ci facciamo è un po' quello che dicevamo prima noi napoletani amiamo parlare stessi esatto sappiate che questo episodio è tutto così sappiamo perché ne parleremo solo male stasera no 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 nel senso che sono chiaramente storie miti e leggende napoletane e quindi ci siamo inventati un po' tutto certo ecco me ragazzi no ma allora il discorso è questo che mi puoi far arrabbiare però cioè noi abbiamo tante di quelle storie vere che sono assurde proprio assur bellissime che non meritiamo le invenzioni cioè io dico noi napoletane non le meritiamo perché la realtà è ancora più bella della fantasia tipo? allora no ora mi sta dovendo in mente solo cose brutte quindi le parliamo dopo vabbè però sono anche se la verità quindi perché non dirle voglio dire allora ragazzi io ho un podcast che anche questo è un po' di nicchia perché si chiama cioè fai un podcast anche tu che si chiama? Napoli Oscura perfetto e si trova su tutte le piattaforme e io parlo proprio delle storie brutte di Napoli ragazzi cioè al di là di quelle tutte bellissime insomma ma nel senso aspetta parliamo di cronaca no no ah ok cronaca mai ragazzi a me non troverete mai cronaca ok quindi io parlo di storia come vi ho detto sono un personaggio estraneo alla cronaca e non mi ci metto dentro mentre invece tenete conto che abbiamo quando vi parlavo dei libri si ha benedetto anzi si ha maledetto quel cane giudeo che ha portato i citaresi a Napoli cioè tenete conto che noi napoletani a parte che siamo stati una delle prime città d'Europa a cacciare gli ebrei quindi parlato di antisemitismo numero uno quindi già ci siamo fatti dei nemici 1540 e tenete conto che c'è stato questa cacciata totale degli ebrei da Napoli per un editto di Don Pedro di Toledo noi napoletani siamo il popolo dell'accoglienza ma da capitale odiavamo tutti ragazzi abbiamo le maschere di carnevale sui calabresi noi li odiavamo c'è lo studente di giurisprudenza calabrese come maschere di carnevale ci sono delle cose che sono veramente terrificanti c'era le 7 c di Napoli cioè praticamente andavano di notte a mettere queste gcccc davanti alle porte degli immigrati che questi immigrati chi erano? erano i scetaresi i capraresi che erano quelli di Capri i costaioli che erano quelli di Sorrenti i castellonicchi di Castellammare di Stabbia cioè quindi ci schifavamo pure tra di noi lo schifavamo tutti perché era un problema chiaramente ragazzi un problema eterno cioè la capitale ricca vede gente povera che viene dentro casa tua e quindi ovviamente ti ruba il lavoro il popolo odia l'immigrato certo un po' come Veneti adesso e praticamente noi avevamo noi avevamo le cameriere Veneti lo sai? ah è una cosa che se voi andate nelle famiglie nobiliari del Napoli di fine ottocento la cameriere era Veneta ed è una cosa nota questo fatto per questo adesso ci odiano tutti quanti per questo motivo sì è una cosa mi viene a pensare che forse un pelino ce lo siamo meritati ragazzi ragazzi allora c'è una frase di un grande illuminista francese che dice a studiare la storia se non cioè non si può studiare la storia senza provare disgusto per il genere umano quindi ragazzi però sono storie molto interessanti che da un lato come dire ci intrattengono ma non ti insegneranno mai un cazzo perché si ripeterà tale e quale oppure potresti fare anche peggio certo puoi sempre imparare a fare peggio mi fa piacere che la storia dei due ha contemplato un'ipotesi di miglioramento no 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 sono molto fiero di voi no perché il genere umano no ragazzi fa schifo può essere può essere però ci sono invece tanti esempi di persone buone invece che ci danno come dire un senso di di grandezza allora parliamo ad esempio in questo caso di Enrico De Nicola napoletano no primo presidente della repubblica tenete conto che di Enrico De Nicola oppure la scuola medica ragazzi la scuola medica napoletana è una delle più importanti d'Italia oltre a quella giuridica che ovviamente insomma è una delle più antiche oltre a quella di Bologna ma scuola medica poi ne parleremo ma Enrico De Nicola è stato un esempio proprio per gli italiani tenete conto lui era famoso per il cappotto risvoltato non risvolti Nato ovviamente in qualche caso perché lui praticamente pensate l'Italia del dopoguerra 1947 quindi c'è miseria totale lui disse io rinuncio innanzitutto allo stipendio da presidente della repubblica perché io devo essere un esempio e in secondo luogo il cappotto immaginate figure istituzionali eccetera eccetera lui se lo faceva aggiustare da un sarto napoletano cioè lui portava questo rapporto e quindi era questo rapporto chiaramente rifoderato rimesso a nuovo ma sempre usato lui girava non con la macchina presidenziale ma con la sua topolino cioè che era una macchina che portava pensate che quando lui fu nominato presidente della repubblica e fece saltare per aria come dire tutto il cerimoniale immaginare il cerimoniale insomma del quiriale quanto è importante lui si trasferì da Napoli a Torre del Greco prese la Torre del Greco alla macchina e se ne andò piano piano da Torre del Greco a Roma con la sua macchina chi farebbe una cosa del genere adesso? quindi immaginate che uomini straordinari abbiamo avuto lui è stato un esempio un uomo che ha occupato quattro delle cinque più importanti cariche dello Stato cioè stiamo parlando di versaggi straordinari e ne abbiamo avuti tantissimi tantissimi abbiamo da Civitanova del Sannio che sta in Molise non sta in Campania Antonio Cardarelli che poi ha vissuto tutta la sua vita a Napoli abbiamo avuto cioè di Antonio Cardarelli si parlava praticamente come di un santo cioè letteralmente c'era pensate che lui andò in pensione a 92 anni tenete conto e perché durante la religione fascista fu messa la legge per il tetto di età dei professori universitari perché chiaramente c'erano alcuni che veramente sono fino alla morte e tenete conto lui andò in pensione e teneva lezioni private agli suoi studenti di medicina fino alla morte fino a 97 anni ha tenuto lezioni private questo uomo ecco a chi è stato nominato all'ospedale vabbè cioè io non mi sono chiaramente mai fatto domande sul perché il cardarelli si chiamasse così perché il santo buono si chiamasse così o perché il fate bene fratelli ci saranno motivi certo ognuno di questi quando vedete i nomi di qualcosa a Napoli è sempre la storia perché vi sentirete meglio con voi stessi al di là di tutte le cose è una sicuramente una lezione di storia ogni volta quindi possiamo dire che a Napoli nulla è per caso cioè nel senso ogni nome ha un tipo ben preciso potrei dire in Italia nulla è per caso perché dove vai in tutta Italia diciamo che devi solo caricarti di meraviglie però vi dico a Napoli ma in generale ecco quando è anche quando esce a Napoli perciò vi dico le nostre città io immagino sempre Pozzuoli perché Pozzuoli è stata una delle città più importanti del mondo antico ragazzi non dimentichavano mai Puteoli Puteoli e ancora prima dice Archia ha una storia bellissima dice Archia nome greco pensate che è nata da dei profughi di Samo l'isola di Samo Pitagora di Samo era uno di quei profughi Pitagora se ne andò però ovviamente per la sua strada altri invece se ne andarono a Pozzuoli cioè l'attuale Pozzuoli perché scappavano perché c'era un tiranno tale Policrate che come tutti quanti i dittatori che facevano le liste di proscrizione e quindi chiaramente tu devi andare a carcere tu devi andare a morire tu devi andare in prigione e chiaramente molti dissidenti politici se ne scapparono con le proprie famiglie andarono in questa piccola inseratura insomma che era incantevole per loro e dissero qui fonderemo la città della giustizia dice Archia di che? Archia Archia cioè quindi giustizia e governo wow questa è l'origine di Pozzuoli Pozzuoli si è chiamata così poi per i romani per la Pozzolana che prende nome da Pozzuoli che era quella malta cementizia utilizzata poi per le costruzioni e scoperte da romani a Pozzuoli ma tu non hai mai pensato di fare il maestro il professore non ti piace? no l'insegnamento è bello però ci sono i professionisti dell'insegnamento io faccio diversi incontri universitari ad esempio domani con le leggi del podcast non posso dire domani perché noi siamo su web e non esiste il tempo quindi comunque sono stato alla Federico II all'ingegneria come divulgatore mettiamola così sono ben in casa ma io sono un divulgatore non sono un professore sei un appassionato professore è esattamente no appassionato no divulgatore perché studio l'appassionato potrebbe essere anche un dilettante che ti racconta la storia delle pietre del Gesù Nuovo certo io sono un divulgatore è una frecciatina è una frecciatina per te l'accetto senza rimattere no 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 per carità noi viviamo di appassionati ragazzi le migliori storie che mi arrivano sono proprio da quelli che ci scrivono infatti noi siamo appassionati di questo tantissimo tutte queste storie veramente ragazzi sono pazzesche sono storie vi ripeto ci sono storie vite da film vite da film è assurdo è assurdo che ancora non si sia fatta una produzione hollywoodiana per esempio sul mito del Castel dell'Ovo cioè sulla sulla sirena partenope cioè ragazzi immaginati un film con le produzioni di hollywood su partenope che lo chiami partenope tu immaginati quello che ti puoi costruire altro che harry potter sì ma infatti vero però il problema è che devono venire sempre gli altri a scoprirci il concetto è sempre quello paradossalmente è la virtù e la negatività della cultura napoletana che è una cosa appunto che non si limita alla città di napoli ma il napoletano può essere anche il milanese appassionato di napoli quindi vi dico è un problema perché a volte si chiude nell'autoreferenzialità e quindi è difficile far entrare e fare uscire cose come tutte le culture come dire in un certo senso chiuse e molto forti quindi quando viene l'estraneo e dice allora siete bravi tipo tipo Anna Barbera che ha fatto un episodio di Tom & Jerry tutto su Napoli cioè che si vede Napoli bellissimo qualche mangaka anche giapponese Jojo bravissimo come? c'è un episodio di Jojo ha fatto lui è ossessionato con Napoli in realtà lui è ossessionato con Napoli lui viene spesso a Napoli ma proprio da turista ma i giapponesi in generale io ho visto che so che esistono molti pizzaioli giapponesi in Giappone che hanno studiato a Napoli sono diventati maestri pizzaioli a Napoli per portare la pizza napoletana in Giappone ah beh che poi se ci pensate Napoli è anche forse l'unico posto al mondo che ha paesaggisticamente molte simili studi anche col Giappone però sì ma tenete conto in realtà noi con gli orientali abbiamo grandi affinità caratteriali ho avuto il piacere di parlare perché ho lavorato in radio per un certo periodo con il titolare di questa associazione che Ciao Cina che praticamente appunto serve a collegare i cinesi e gli italiani e sta a Napoli e lui mi raccontava proprio questo e ha detto guarda che ad esempio i cinesi sono molto simili caratterialmente ai napoletani cioè se tu vai in una città cinese troverai molti caratteri e tu dici ma com'è possibile cioè dalla guida spericolata all'essere molto festaioli dice che ad esempio i cinesi non avevo idea di questa cosa sono ad esempio molto ironici gli piace molto sì gli piace molto scherzare gli piace molto essere come dire fare battute quindi c'è che è un questa atmosfera molto allegra e molto napoletana anche con il Giappone abbiamo spagnola certo meiterraneo in questo senso e tu non te lo aspetti dal mondo orientale che ha una filosofia di vita completamente diversa invece no abbiamo molte molte affinità questo secondo me anche per una questione di cattiva comunicazione che viene fatta sia da noi verso l'esterno che anche anche noi sbagliamo a recepire poi dall'esterno verso l'interno nel senso io immagino la Cina come un posto totalmente insomma diametralmente opposto a quello che mi stai raccontando tu in questo momento specialmente negli ultimi anni lo vediamo come un posto molto proibitivo sì sì e molto chiuso insomma infatti io devo dire la verità io sogno di viaggiare in Cina cioè tra Cina e Giappone in realtà entrambe cioè sono proprio nei miei sogni costanti però secondo me ecco quando tu viaggi e questo è fondamentale ecco quando vi dico che mi inseguono le storie trovi sempre qualcosa di casa e questa è la cosa bella ad esempio sono stato l'estate scorsa in Francia in Provenza e non avete idea ragazzi cioè ma collegamenti con Napoli ma non finiscono mai San Marco dei Cavoti ragazzi San Marco dei Cavoti in provincia di Benevento no eh perché si chiama Cavoti non me lo immagino c'è qualche parola francese che sono i cittadini di Gap paesino paesino tiene 50.000 abitanti della Provenza che durante l'epoca angioina nel 14esimo secolo furono invitati per ripopolare perché ci fu uno dei classici terremoti delle aree interne insomma del del sud Italia a ripopolare la zona come sempre con i soldi cioè dicendo esentasse quindi chiunque si trasferisce in questa zona non pagherà le tasse insomma da qui alla fine delle proprie giorni poi non è stato così però diciamo che per per insomma la corona angioina era un incentivo presero letteralmente un bel barcone i cittadini di Gap si organizzarono e si trasferirono in questa pontata San Marco dove c'era un'edicola votiva dedicata a San Marco e quindi dentro San Marco dei Cavoti che erano i Gavoti che erano i cittadini di Gap e lì si parlava francese ragazzi cioè era una città dove si parlava francese in Campania che poi noi siamo ovunque nel mondo ovunque no 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 vabbè i napoletani lo potrebbero anche nel deserto sì ragazzi tra l'altro so che il uno come era quella storia ora ripeto non so se è vera quindi adesso alzo le mani anche perché sono qui con il come era il fact check della situazione so che tipo Napoli non è il posto che ha più napoletani nel mondo praticamente è vero che l'argentino l'argentina è il posto il Brasile il Brasile tra Buenos Aires o il Brasile comunque sono quelli i posti dove ci sono più napoletani in tutto il mondo ma sapete che la regina del Brasile era napoletana la regina del Brasile era napoletana non avevo era amatissima era Teresa Cristina di Borbone che era la sorellina di Ferdinando II di Borbone e chiaramente l'hanno mandata in esigenza cioè che è successo vabbè tenete conto che all'epoca come potete immaginare le famiglie reali cercavano matrimoni per fare alleanze e il papà di Ferdinando II Francesco I chiaramente cercò un anzi lo fece anche in una maniera abbastanza truffaldina in realtà l'ho fatto con diverse persone questo fatto praticamente mandavano dei ritratti photoshoppati al futuro marito già esisteva già esisteva la photoshop letteralmente ma ce ne sono diversi cioè esempio ora non mi viene il nome ma ci sta Elisabeth Vigellebrun che è una pittrice francese che ha una di queste figlie di Ferdinando IV di Borbone quindi che era la prima photoshop artist della storia si scrisse preferirei non averla mai dipinta per quanto era brutta invece Teresa Cristina no fortunatamente non così comunque gli mandarono un quadro insomma di questa donna che sembrava bellissima Pietro II del Brasile si innamorò di lei del dipinto del dipinto ecco quindi accetto va bene firme insomma il contratto fa il matrimonio per procura gliela spediscono da Napoli a non mi ricordo ora insomma dove c'era la famiglia reale comunque gliela spediscono da Napoli in Brasile e quando la vede lui la vede dice e vi abbiamo appena raccontato il primo catfish della storia letteralmente quando lo ordini versus quando ti arrivi a casa Tinder per procura insomma mamma sì sì però l'unico problema è che è rimasta regina anche perché poi all'epoca non è che dicevi no non ti voglio all'epoca eri sposata te la tenevi però nonostante tutto in realtà lei fu amatissima dei brasiliani e c'è una città che si chiama Teresopolis in Brasile che è dedicata proprio a Teresa Cristina dei Borbone i brasiliani la amavano tantissimo e lei portò molte cose nella cultura napoletana in Brasile dai piatti tra parentesi vabbè questa è un'altra storia ancora che vi racconterò alle rapine allora tenete conto ragazzi noi polacchi siamo fratelli però facciamo noi polacchi siamo fratelli però andiamo per ordine e vi dico ad esempio in Brasile portò molte cose eccola lì Teresa Cristina di Borbone appena carica ci dovrebbe stare anche in dipinto ma quella è lei sì è lei lei da anziana questo è il dipinto eh vedi così aspetta aspetta questo è il dipinto riesci a zoomare ecco io per esempio questa foto su tinder la cliccherei capito sì sì no no ma era una cosa frequente cioè queste è swipe beh il sì è a destra o a sinistra su tinder non mi ricordo perché lo chiediamo è uno swipe è un sì è un sì su tinder questo è un sì questo per te è un sì su tinder sì dai molto bene ma qui invece a sinistra scuola a sinistra quella è a lei probabilmente sì molto bene da adulta però molto bene se stato nel Brasile mi sarei sentito abbastanza truffato anch'io no dai però comunque in realtà la cronaca ci racconta che comunque c'è nonostante ecco non ci fosse attrazione fisica si vollero comunque molto bene c'era una grande amicizia erano sì rimasero sì sì profondamente amici nonostante insomma quattro figli però vabbè ci sta ecco questo è il photoshop del tempo è il photoshop ottimo tra l'altro questa moda di moda questa tradizione a parte del dipinto poi andando anche avanti negli anni io ho trovato sempre nei cassetti di mia nonna della bisnonna eccetera ho trovato una vecchia foto scattata agli inizi del novecento quindi sì nel novecento dieci nel novecento quindici quando sarà stato le foto venivano ritoccate tra virgolette col pennello cioè venivano pittate sì no ma anche dopo il millenovecento cioè nel senso anche nel cinema prima era così stupendo è una bellissima cosa perché hai tra le mani quando ho preso questa fotografia che è un ritratto una fotografia un primo piano di penso mia nonna la mia bisnonna che sembrava una bambina che aveva la foto in bianco e nero ma le guagge erano colorate colorate capisci proprio che hai a che fare con un pezzo di storia bello immagino che significa poi trovare un manoscritto che racconta oppure che svela un mistero di Napoli eccetera eccetera e trovarlo magari in versione originale imboscato in qualche libreria mi è capitato cioè ti è capitato di trovare un pezzo di storia vero cioè l'originale sì sì capita a parte il fatto ragazzi basta andare in una biblioteca insomma diciamo che è una biblioteca nazionale che è una delle più importanti in Europa con i manoscritti però ci hai un po' spoetizzato devo dire la verità però se non è successo di trovare il tesoro sì ma tenete conto più sì ora non mi viene in mente però ne ho due o tre di cose interessanti che ho trovato sempre girando per bancarelle libri sempre sì libri ci sono ho anche qualche medaglia delle cose c'è un nostro collaboratore che invece è un collezionista di medaglie ragazzi ma delle cose che sono completamente prive di di 6 c'è tu dici come le hai trovate però lui è uno di quelli che va alle 5 del mattino sai in quei mercatini segreti quindi mi dico quelli che alle 7 hanno già chiuso quale alle 7 del mattino sì no ma quelle cose che tu dici no anche perché mi ha spiegato che il vero affarista in questi mercati dell'usato è quello che va appena aprono quello che non dorme praticamente quello che non dorme quello che poi dopo perché dopo quello che vediamo è tutta spazzatura quella che rimane allora io ti interrompo un attimo perché scorrendo te ne avrei voluto parlare a breve però visto che stavamo scorrendo mi è venuto adesso in mente il post che dice il nonno di Heidi è stato a Napoli ah sì è vero bellissimo il nonno di Heidi è stato a Napoli e ha ammazzato anche una persona ce ne parli certo il nonno di Heidi era un soldato borbonico e ha ammazzato una persona letteralmente e come facciamo a sapere che era il nonno di Heidi ha scritto un'autrice Johanna Spiri che ha scritto il romanzo Heidi e ha scritto c'è una pagina pagina 12 basta leggere il libro ragazzi non è che lo dico io ci sta il nonno di Heidi sì poiché era fondamentalmente era un ludopatico era un ludopatico e criminale sì molto bene conosco alcune persone così perciò poi è scappato nelle montagne perché lui praticamente eritò una fortuna di famiglia e la sprecò in gioco ad azzardo e tenete conto che la zecchinetta è tedesco come gioco davvero non sai cos'è la zecchinetta no te lo spiego dopo sì comunque un gioco ad azzardo uno dei primi giochi ad azzardo che lo portavano in Lanzichenetti perché su questo si chiama zecchinetta wow e quindi praticamente un gioco ad azzardo portato a Napoli dai tedeschi in Italia in generale al sud Italia perché è da Roma che parte e tenete conto che lui comunque sprecò tutto a zecchinetta e poi chiaramente indebitatosi fino come dire all'immerosimile esattamente in giri criminali uccise una persona e chiaramente per riuscire a fuggire dal carcere la Svizzera gli dava questa bella opportunità diventare soldato mercenario e i mercenari svizzeri non stavano solo a Roma ma ce ne aveva anche Napoli Ferdinando II e Borboni in realtà tutta la dinastia borbonica aveva i reparti più fedeli che erano i soldati svizzeri e quindi lui andò a Napoli ce lo spiega proprio io andò a Spice noi che lo dicono i ragazzi e per 12 anni viste a Napoli e non si sa cosa fece comunque si sa che uccise un uomo durante una rissa insomma in una taverna del porto e poi è tornato dalle caprette sulle montagne e poi è tornato dalle caprette probabilmente anche con un figlioletto che non si sa neanche chi sia sta cioè chiaramente non è Petano no 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 Petano non c'entra niente era il papà di Heidi che si sposa con una signora svizzera e sì sì lui si sposa con una signora svizzera e poi nasce Heidi lui muore in un cantiere la mamma muore di malattia di crepacuore e la povera Heidi viene portata da questo nonno ah finisce bene cioè inizia bene inizia bene inizia bene grazie devo fare un po' di catch up con Heidi per rivederlo con occhi diversi con occhi diversi sì sì no ma è un bagno di sangue molto bene mi fai questo coffee sì adesso faccio il caffè nel frattempo io ti voglio fare una domanda perché tu sei abbiamo parlato tantissimo di contaminazione fino ad adesso nel 2023 anzi a fine 2023 inizio 2024 il turismo sì ha ancora quel valore di contaminazione positiva o ormai è solamente come dire nocivo per la città ho avuto molte minacce di morte per questa domanda lo sai quindi andiamo avanti allora ti dico no in che senso io ho fatto un video cioè stai scherzando o sei serio no assolutamente no no ragazzi allora la mia prima minaccia di morte è stata la più divertente la mia prima sì è una cosa che ti capita spesso sì abbastanza cambiamo domanda no no scusate fatemene fare una in più un attimo no perché c'è una ferita sul maschio angiolino no praticamente se vedete il lato la facciata sinistra la facciata sul lato mercadante per intenderci ok ha una ferita ancora oggi si vede effettivamente è inspiegabile mia nonna che era bambina insomma all'epoca della seconda guerra mondiale mi racconta che fu a causa dell'esplosione della Caterina Costa tenete conto nel 1943 esplose una nave al centro del porto di Napoli facendo 3000 morti all'istante era una nave carica di carburanti munizioni armi eccetera non si è mai capito perché esplosa questa nave è inutile dirvi che i pezzi di questa nave sono volati fino alla collina del vomero è certo cioè quindi ci sono stati non solo morti per l'esplosione ma morti anche per altre cause mia nonna stessa ha una ferita qua sulla fronte che è dovuta all'esplosione delle finestre di casa sua madonna ed è una storia che non ho mai sentito una storia assurda e secondo mia nonna che chiaramente era testimone ma bambina aveva 7 anni no un po' di più 9 tenete conto che disse no e quella è stata a causa di un pezzo comunque volato dalla Caterina Costa io scrissi questa storia fidando mi diavano l'ordine mia nonna dicendo vabbè è testimone diretta certo ecco vedete quanto è importante poi studiare le fonti ma che tra l'altro è plausibilissimo plausibilissimo d'altronde perché poi il mio bisnonno la portò insomma chiaramente per camminare insomma in questa città distrutta da questa dai primi i sordi della guerra perché no perché se detriti e pezzi sono volati fino alla collina del vuomero il maschiangelo che sta lì può essere invece no è una cosa più brutta più sporca questo professore o sedicente tale mi disse prima era un commento chiaramente molto carino mettendo uno screenshot del suo cellulare e aveva preso la mia foto profilo di facebook dicendo io mi sono salvato la tua foto sul cellulare perché ti cercherò per tutta Napoli e quando ti troverò ti investirò e passerò avanti indietro finché non sparirai sotto l'asfalto cioè era talmente complesso e come mai ci teneva tanto al maschiangelo dicono che chi ti odia ti ama da morire praticamente infatti vabbè questo allora devo avere molta paura ragazzi non c'è il numero per la violenza maschile ma lo devo fare insomma comunque vi dico invece che allora gli dici perché l'abbiamo ringgato ma sa perché che è successo solitamente rispondo agli hater quindi gli dici perché e lui disse perché in realtà secondo gli studi che mi disse pure questo libro i tedeschi ritirata dopo il 1943 insomma delle quattro giornate di Napoli famose misero una serie di mortai in varie piazze di Napoli sparavano a caso è quello che vedi sul maschiangelo in uno dei colpi di mortai sparati da piazza a borsa dai tedeschi la minaccia di morte era necessaria e come mai lui ha associato a questa cosa il desiderio di farti scomparire sotto l'asfalto forse era un tedesco forse era un tedesco un tedesco sopravvissuto dai insomma dei primi di metà i primi del novecento ma ci vuole parliamo di fantasmi dragone perché no un tedesco ha trovato l'immortalità queste cose qua tenete conto che hanno cercato di portare a proposito di arianesimo e quant'altro le ossa di Corradino di Svevia noi gli oestaufen erano tedeschi no la minaccia che ha regnato su Napoli di Federico II e Corradino di Svevia è stato sepolto nella chiesa del mercato la chiesa del Carmine che sta vicino piazza mercato e tenete conto che vennero un manipolo i tedeschi per portarsi alle ossa per portarlo in Germania dicendo questo è un ariano nel cacchio lo tenete a fare voi e fortunatamente il prese dell'epoca lo nascuse sotto la statua e non lo trovarono però quindi tenete conto che loro pensavano che riunire insomma questi personaggi straordinari insomma il nazismo aveva molto molto a che fare con l'esoterismo potesse creare ovviamente dei benefici e poi magari questo invece è riuscito con le osse con il radicalismo a diventare immortale ragazzi ragazzi io la penso aspetta un attimo tu ti rendi conto che ora sto per in maniera un po' anacronistica a parlare di qualcosa che è successo un po' di tempo fa tu ti rendi conto che c'è stato chi in televisione ha detto che a Napoli non c'è poi così tanta cultura non c'è poi così tanta storia così tanta arte allora Giovanni fondamentalmente chi va al grande fratello vuol dire che nella vita non è che sia una cima questo gran pozzo di scienza e soprattutto è lì per fare intrattenimento magari questa persona gli vuoi veramente dare così tanto una riflessione è temporale ragazzi questi sono dei bombaroli fondamentalmente campano per fare questo per fare i commenti quindi è normale così su Instagram è più difficile ma su Facebook le pagine di hater su Napoli ma ragazzi ce ne stanno due o tre che sono proprio terrificanti per giunta una è stata venduta a una testata napoletana bellissimo sì quindi proprio per farvi capire ma quanto siamo idioti noi e questa testata napoletana pubblica tutti gli articoli che parlano male di Napoli su questa pagina molto famosa di hater siamo i numeri uno fortissimo i numeri uno la suoniamo e ce la cantiamo da soli letteralmente letteralmente complimenti quindi vi dico perciò ma questi campano di questo quindi no io se ne parlano dicevo alla fine la penso come maldestro qui è stato Antonio Prestieri che ci ha detto alla fine scoprire conoscere effettivamente la verità è difficile è impossibile è difficilissimo devi studiare ma non studiare magari come fai tu dovresti proprio fisicamente essere lì in quel momento per saperlo per capirlo parlare con lui parlare con l'altro capire un pochino il pensiero di tutti in quella circostanza di un eventuale avvenimento importante storico che vuoi conoscere la verità ad esempio si dice che faccio un caffè si si dice si diceva che Hitler fosse ancora vivo cioè nel senso non fosse mai sì sì non fosse mai morto in guerra bensì che fosse scappato e fuggito in Argentina e lì infatti in Argentina si dice sempre che ci siano tante colonie tedesche e che lì in Argentina si parli tedesco in molte zone in una dello specifico dove a quanto pare sono tutte famiglie di ex nazisti sì sì rifugiati in Argentina c'è una mezza verità perché poi effettivamente c'erano molti nazisti fuggiti in Argentina tant'è vero che il Mossad li è andati a stanare uno a uno ma no comunque c'è la teoria chissà se è vero capito queste sono cose che non puoi mai sapere vabbè però quella che è più bella di tutte queste teorie strane è quella che l'impero romano esiste ancora l'impero romano esiste ancora ora non ve la so spiegare perché l'ho letta ma è troppo vabbè in che senso allora è uscito un po' di tempo fa che gli uomini pensano solo almeno una volta al giorno quella cosa non la so questa cosa no è bellissima ma non so per chi negli Stati Uniti è uscita sta storia ah nemmeno qua che poi è arrivata in Italia sì 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 sai che c'è tutte le varie meme cosa pensa la donna cosa pensa l'uomo lui sta a letto e ci sta Giulio Cis ah è un meme sì è un meme ma è andata così virale che sono usciti articoli perché gli uomini pensano all'impero romano almeno una volta al giorno una volta al giorno comunque tornando a noi tramite tutta una serie di scambi che non ti so spiegare l'impero romano adesso sarebbero gli Stati Uniti quindi gli ultimi eredi di questa dinastia dei Cesari adesso sarebbero i presidenti degli Stati Uniti attraverso una complessissima cosa insomma cioè stiamo parlando di illuminati e massoni peggio molto peggio ma è bellissima questa è una delle mie preferite le teorie del complotto la amo veramente perciò a me queste tutte le storie in generale mi piacciono da morire cioè ripeto miti e leggende sono appassionatissimo però ecco tu adesso mi hai raccontato cioè hai raccontato tutte queste bellissime cose io le prenderò per vere però poi chissà se effettivamente tutte lo siano capito? mi stai dicendo che dico palle può essere no 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 assolutamente però nel senso tu pure ce l'hai il dubbio a volte sì certo ma c'è una cosa molto bella di un docente universitario uno dei più importanti di chi napoletano ora mi sfugge nel caccioppoli ecco mi nomine il nome che lui disse lui pensate che è stato uno dei padri dell'analisi matematica moderna cioè stava parlando di padre eterno e lui disse io non parlo mai per verità ma solo per alta probabilità quindi bellissima questa cosa è molto molto bella è molto vera e quindi la verità secondo me non esiste perché ci sono anche verità diverse bravissimo però c'è l'alta probabilità che c'è una grossa probabilità fin quando non lo vedi da solo cioè non lo vedi certo e lì poi è certezza tieni conto che le storie romane cioè per questo io esempio amo l'impero romano io ci penso tu ci pensi tutti i giorni ma hanno fatto pure Alberto Angela la cosa sono tornato eccomi oh grande ma mi fanno scattare le risate perché ci sta pure il video che hanno fatto Alberto Alberto ma tu quante volte pensi all'impero romano io non la sapevo sta cosa no andatemela a cercare recuperatevela perché è una delle wave più belle dell'ultimo tempo Federì ma tu hai qualche storia sul caffè napoletano ai napoletani non piaceva il caffè non sul nostro ai napoletani non piaceva il caffè ragazzi e come mai abbiamo iniziato a farne abuso anzi come mai ci arroghiamo il diritto di aver inventato l'unico vero caffè nel mondo questo fa schifo allora ok minacce di morte ora torno a casa e trovo i forcuni è diverso addirittura ho pensato ora me ne devo andare direttamente cioè perché tu dici vabbè devi andare al nord Italia no nel nord Italia ci ho vissuto quindi no per un anno e poi sono scappato qua di nuovo in casa mia affascinante sì 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 no io ho lavorato per Mediaset bellissima realtà sono stato benissimo però non è la casa mia non fa per te non è casa mia casa mia è la Campania casa mia è il sud Italia quindi non io sono qui per lavorare e con tutte le difficoltà del caso ma per lavorare qui quindi è una questione di benessere personale però tornando a noi tornando al caffè tornando al caffè vi dicevo no in realtà c'è un piccolo problemino noi l'abbiamo la scuola del caffè austriaca partiamo da questo austriaca austriaca cioè il caffè arriva e piace agli austriaci che lo vivono in realtà in un modo completamente diverso dal nostro viene portato con le prime spedizioni chiaramente nelle Americhe in Europa e c'è questo studioso è un mercante centroitaliano non ricordo bene la provenienza mi pare Emiliano comunque o romano comunque che invia a nade gli studiosi napoletani i primi semi di caffè mi dice guarda questa bevanda comunque si beve insomma sta cominciando a sperimentare insomma in Europa e effettivamente comincia a essere introdotta nelle case nobiliare napoletane solo che era amarissimo ragazzi e non piaceva a nessuno tenete conto che noi la pizza la pizza margherita ma nessuno l'avrebbe mai immaginato a parte che non istitua il pomodoro ma la pizza margherita è arrivata a fine settecento cioè quindi tenete conto che però quella è nostra ok giuro vi dico però la pizza intesa come pizza ragazzi una bandiera alla volta andiamo al caffè bra comunque non piace a nessuno e quindi chiaramente il caffè morì lì come torna a Napoli con la moglie di Ferdinaldo IV di Borbone che chiaramente inizia a portare tutta una serie di tradizioni austriache che si portavano bene in nord Italia lato trentino immaginate la scuola di caffè di Trieste no e perché perché era austro-ungarico all'epoca e quindi era tutta zona dove si beveva il caffè perché era normale bere il caffè solamente lo zuccheravano cioè lo addolcivano ci mettivano la panna cercavano di trovare modi per per farselo piacere per farselo piacere però piaceva infatti in vari modi diversi quel caffè con la cioccolata sono varie modalità ma è arrivato a Napoli solamente con l'importazione delle mode austriache quindi parliamo del diciottesimo fine diciottesimo grazie ai borbone però con i borbone che introdussero le cialde le capsule e tutte quelle cose che il caffè borbone certo certo le macchinette 1700 1700 ok però avete fatto pubblicità quindi voglio anche io parte del sofferti e niente praticamente quindi non era manco una cosa che a noi piaceva bere e tu quindi sei un napoletano originale perché il caffè ti fa schifo hai visto hai visto e mi hai trovato pure raffreddare ragazzi no no questo è Sheffrey ma non è Sheffrey non è Sheffrey allora come i veri napoletani non mi è piaciuto la pizza invece dicevi che non era la vera pizza cioè ciò che intendiamo come pizza la pizza è napoletana ragazzi però l'impasto non possiamo dire che l'abbiamo inventato noi ragazzi cosa è cinese? no no ah no gli spaghetti forse sono cinesi ma questa è una storia lunga quindi non sappiamo dove andare a scavare quindi meglio di no no ma ragazzi allora la pita greca no perché è così simile no ok perché fondamentalmente questo pane steso è un po' di tutto il mediterraneo lo troviamo anche si lo troviamo dappertutto esatto nel mondo arabo quindi non possiamo dire che la pizza l'abbiamo inventata noi come intesa come pizza con il concetto del pane rotto al forno stiva già quindi quando è uscita quella storia ecco perciò vi dico noi ci facciamo male da soli la prima pizza a Pompei abbiamo trovato un mosaico che fa vedere una pizza no ragazzi cioè è normale qui il pane ma non è che serve un genio a stendere una fetta di pasta e metterci un condimento insomma quindi vi dico è una cosa che esiste da sempre la pizza è stata storpiata da pita a pizza nel medioevo quando sono arrivati i longobardi perché non riuscivano a dire determinati tedeschi insomma tutti nordici lì che non riuscivano a dire determinati fonemi che erano tipici invece della nostra cultura latino-greca e quindi che facevano li storpiavano quindi pizza da pita a pizza è perché non riuscivano a pronunciarla molto semplicemente e quindi poi si è distribuita questa parola molto semplicemente poi la pizza napoletana insomma la nostra scuola sacra e onorata è quella ragazzi quindi non si discute anche perché poi come dicevi tu il pomodoro è arrivato cioè molto in là molto tardi ma anche perché il pomodoro tenete conto è arrivato inizialmente in Inghilterra e in Francia perché il pomodoro era americano era americano lo coltivavano in territori che chiaramente non erano adatti alla crescita del pomodoro che faceva schifo nessuno lo voleva quindi poi hanno cominciato a sperimentarlo qui nel sud Italia e hanno detto ah ma allora se lo mettiamoci solo i vulcanici allora funziona bene infatti tra l'altro il pomodoro scusatemi proprio nel Mediterraneo non cresce benissimo esatto ok ma insomma è arrivato dopo cioè è arrivato perché gli inglesi e gli olandesi facevano molti commerci quindi è arrivato anche da noi ma così come la patata ragazzi cioè la patata è arrivata perché costava poco e poiché c'era una grossa crisi sempre nel regno di Sicilie di raccolto e di insomma alimentare che succede decidono Ferdinando di Borbone decide di fare un accordo con l'Inghilterra per un carico gigantesco di patate e quindi fondamentalmente iniziano a introdurre la patata come alimento in tutta no con l'Austria scusate non con l'Inghilterra per tutto il regno di Sicilia perché è economica perché si coltiva facilmente perché qui attecchisce pure molto bene quindi ce la teniamo bene quindi il gatto di patate i crocche tutte queste belle cose sono anche non recenti di cui adesso ci vantiamo recenti quindi se io napoletano come ah beh gatto ah certo è gatto se io napoletano del 1500 mi volessi fare una pizza che cosa ho a disposizione? eh ti piacerebbe poco aglio cipolla no si faceva allora le pizze si condivano diciamo le pizze gourmet ma all'epoca si condivano con qualsiasi cosa tendenzialmente si usava strutto per darci sostanza sostanza già immaginate il sapore bella ontina secondo me bella ontina si usavano se si poteva la carne ma tenete conto che carne già era molto molto rara però solitamente si usavano le alicette si condivano strutto e alici c'erano queste cose schifose oppure ancora la pasto nicola che è la prima pizza che la storia ricordi era strutto origano e non mi ricordo un'altra cosa comunque sempre proprio niente di ingredienti proprio di base ah ma è basilico strutto origano e basilico un alito da bomba a gas praticamente si esatto il topolino in bocca praticamente si ma così come la pasta poi tenete conto ragazzi che il sapore della pizza doveva essere disgustoso è certo non solo per gli ingredienti usati ma anche perché la pasta è utilizzata era conservata male ragazzi ah certo mica come è idratata all'80% che mi immagina i Nass che vanno tenete conto che c'è stato un turista americano che venne a Napoli ma sul finire dell'ottocento e come sempre noi questa nostra facoltà di esaltarci e di autodistruggerci insieme siamo bravi siamo fenomeni tenete conto che c'erano i venditori di pasta che erano questi chioschetti che vendevano insomma la pasta e c'erano dei pezzenti immaginate delle condizioni disperate della popolazione che vendevano la cartonina di Pulcinella non so se l'avete vista la classica foto di Pulcinella che mangia la pasta con le mani quindi come oggi il turista vuole venire a vedere il come dire la Napoli del trick e ballacche ma esatto così stesso discorso anche all'ottocento facevano la stessa cosa quindi c'erano dei disperati che andavano vicino ai turisti stranieri ed erano pochi ma molto ricchi per farsi pagare per mangiare la pasta quindi immaginate c'erano gente che voleva essere pagata per mangiare la pasta e c'è questo turista americano ma eccolo infatti ecco lo dito alla spalla i turisti pagavano chi mangiava pasta esattamente tenete conto infatti questa è una foto cioè venivano fatte foto come allo zoo letteralmente di questi disperati che mangiavano la pasta c'è questo turista americano che scrive una lettera del suo viaggio in Italia e un libricino in realtà dove dice io sono stato a Napoli dove tutte le guide turistiche mi consigliano di pagare i napoletani per mangiare la pasta perché poi per molti è divertente vederli ballare e cantare cioè capito veramente le scimmie ammaestrate vero 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 e poi ho cercato cioè ho detto questo io non mi sono divertito in realtà mi sono sentito triste per loro poi però ho detto vabbè provo a mangiare anche io un po' di pasta vediamo morto no non è morto quasi perché ha avuto dissenteria fino alla fine del suo viaggio bel ha detto che la pasta napoletana aveva un sapore estremamente acido e lasciava un sapore praticamente disgustoso in bocca che non gli si è più tolto che schifo inutile dirvi che ovviamente era lo street food dell'epoca quindi immaginiamoci come cavolo si mangiava nella casa del re o nella casa dei nobili inutile dirvi che la pasta doveva essere super mega favolosa era stupenda da vedere e da mangiare esatto per strada un po' meno non meno non gulosisce devo dire la verità quella fotografia tenete conto che le condizioni igieniche erano pessime e inutile dirvi cioè noi ecco qua ci facciamo la pasta è data 80% questa pizza è stata un po' sullo sto siamo molto più schizzate oh si è lievitata male si si pizza leggerissima no invece là probabilmente prima di cuoce l'avevamo nei topi da sopra però la storia si ripete perché il turista che va a Napoli e scatta le foto come allo zoo alle scimmie che mangiano la pasta oggi il turista viene a Napoli per vedersi e farsi foto con i tiktoker napoletani che al pari delle scimmie allo zoo fanno i loro spettacolini e questa sapete si chiama in un certo senso ne parlavo proprio con una docente universitaria pensatevi di questa cosa di letteratura e lei dice che questa si chiama profezia autoavverante è interessante un concetto fondamentalmente di una cosa già scritta tu ti convinci che diventa vera e poi la fai diventare vera corsi di corsi storie io vivo molto così quando tu ti autoconvinci che una cosa che magari hai visto succederà succede poi verrà mi succede un sacco di volte lo faccio spesso legge di attrazione credo a me piace nelle stronzate nella quotidianità tipo no perché non ci sarò domani perché avrò questa cosa da fare non è vero però poi mi succede si 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 sei un bastardo però se dici non ci sarò è brutto no però è incredibile wow bello no no quando ti autoconvinci di qualcosa oppure questo succede perché è dall'ottocento appunto ma anche da prima che ci sono molti stranieri soprattutto chiaramente letteratura colta che viene a Napoli cioè quindi non è solo che te vedi Napoli e poi muori quanto è bella Napoli no ci sono tanti stranieri Guete è stato il padre praticamente del turismo inteso come lo conosciamo oggi praticamente no ci sono le guide sacre cioè Guete si è perché è famoso che ha fatto la letteratura il gratur eccetera ha fatto la letteratura del turismo però in realtà prima c'erano le cosiddette guide sacre che erano praticamente delle guide solitamente per guidarti appunto all'interno delle grandi città d'Europa ma sono vengono prima di circa cento anni rispetto a Guete sì 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 e Napoli ne aveva una sua ci sono moltissime sulle guide sul Napoli ci sono infinite la più importante in assoluto è di Carlo Celano che del 600 sempre e parla proprio appunto di passeggiate per Napoli cose dell'insolito e del curioso insomma bellissime non si capisce niente e comunque tenete conto anche perché Napoli non è cioè la Napoli del passato non è la Napoli che vedete adesso anche di strade sono tutte cambiate ma al di là di questo vi dico tenete conto c'era tutta la letteratura nord europea che questo faceva cioè veniva a Napoli vedeva cioè si aspettava di trovare le scimmie vedeva le scimmie perché purtroppo c'erano tenete conto no ma non ci sono sempre state perché il popolo purtroppo questo ok ora aggiungiamo agli insulti che avrò sei pure un classista va bene siamo in tre non ti preoccupare non ci separiamo da questa situazione allora facciamo fino alla fine no ragazzi sapete che voi dite un uomo ci vuole fai politica e ti massacrano perché la politica è così e fai non lo so cose divisive ma pure il tiktok e ti massacrano perché comunque ti metti in sempre c'è in posizioni particolari ma tu dici quella è la cultura cioè se dovrebbe essere quella cosa la scena dei simpson cosa sarebbe il mondo senza avvocati no ragazzi no è incredibile il quantitativo di odio che leggo lì infatti prima o poi farò un post per chi devo sfogare per difendermi devo sfogare perché non si pensa che ci sia invece questa furia cieca delle persone che in realtà si sfoga semplicemente dove possono trovare un partito da appoggiare quelle anche in cultura ma tornando alla nostra storia originale il popolo di qualsiasi stato non conosco io almeno nelle cose che ho letto mi sbaglierò sicuramente un popolo felice dove c'è appunto le classi più basse che sono colturate forse dobbiamo arrivare ai tempi delle polis greche probabilmente però è normale che ci sono dei comportamenti più basilari più istintuali più aggressivi cioè e che chiaramente chi è che raccontava queste cose non è che se eravamo noi erano gente del popolo che viaggiava erano nobili erano persone che erano abituate a vivere all'interno di palazzi d'oro con tutti questi cerimoniali tutti quanti raffinati infiocchettati e quant'altro quindi Napoli ha questa particolarità invece dove il popolo e la nobiltà convivevano insieme se voi vedete spacca Napoli e tutte le traverse c'è il palazzo popolare e il basso il fondaco e la casa del mercante cioè era tutto insieme e quindi era normale a Napoli per un nobile uscire in mezzo alla popolazione per loro che poi vivono in questo palazzo d'oro con tutte le loro bellezze ma per loro era normale frequentare il popolo e tenete conto che il popolo sapeva benissimo anche dove stavano i nobili dove andarli a prendere in casa in caso di rivolte e ci sono storie drammatiche quindi questo contrasto invece che ancora oggi esiste perché se voi vedete nelle città cioè se voi andate nelle grandi città c'è il quartiere turistico bello bellissimo stupendo dove ci sono il classico vialone con tutti i marchi dal mcdonald del comfort food che non riesco a capire c'è gente che va all'estero e mangia italiano all'estero tranne dove vai nei posti dove ci non puoi mangiare allora in italia ti mangi il mcdonald qua a casa ti mangi lo schifo e poi quando vai fuori ti mangi l'italiano sì 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 mamma mia io ho parlato con una persona che ha ordinato a Brighton gli spaghetti con le vongole complimenti e io dico e ha mangiato quelli che abbiamo visto con le mani con le mani me lo auguro perché c'è igienizzati probabilmente c'è li ha puliti non me lo so dire però quindi ci sono cose strane e perciò è normale che c'è questo scontro che si crea ancora oggi cioè quindi che tu vivi questa città veramente dove al centro storico ci sono dei comportamenti popolari che una persona che viene dalla media città svizzera dalla media città tedesca dove cioè quelli si mettono paura pure se il semaforo è giallo ragazzi è uno shock culturale questo perciò vi dico diventa uno zoo è uno zoo e se lo cercano poi è chiaro che chi per successo è disposto e ce lo cerchiamo noi ce lo no non tutti però chi per un certo tipo di successo cerca di assecondarli perché poi alla fine ti fai soldini così certo ma soprattutto a quei tempi ci mangi e ci mangiano ancora oggi ragazzi c'era il Gomorra Turro cioè oggi ci sta chi chi abita nelle vele cioè o vicino alle vele che organizza il Gomorra Turro cioè che dice ah qua c'è la cioè io mi ricordo vidi su Airbnb uno che diceva vi faccio conoscere le vere famiglie di Camorra nelle vele cioè capite è una cosa ragazzi cioè veramente ovviamente che ti cadono che ti cadono le braccia a terra per i soldi si farebbe di tutto per i soldi si fa tutto esattamente quindi questa è autodistruzione pura e perciò vi dico allora li assecondiamo e allora poi se ti va il tiktoker e ti fa esperienza drammatica a Napoli ho parlato col camorrista ma che ne so il tiktoker brasiliano ma il brasiliano ma che ne sa che quello magari era un attore cioè no no certo perciò vi dico si crea e questo si chiama profezia autoavverante perché ne parlavano da sempre i napoletani si sono autoconvinti che così è e così è diventato e così hanno capito che poi c'è anche un successo perché ci sono tante persone che facendo la macchietta napoletana vincono e i napoletani ormai la cosa che a me preoccupa e fa un certo senso paura è che i napoletani stessi cioè anche quelli di un certo livello culturale si divertono con la macchietta napoletana a me questo fa poi poi fa ridere no no fa ridere perché fa ridere lui mi mette a ridere quando ci sta quello che fa la battaglia ragazzi cioè ok ma quando li prendi sul serio ah beh no certo cioè come Willy Peyote no cioè tanto che fa ridere che poi diventa serio insomma cioè com'era tanto ridere che poi diventa credibile ora non ricordo insomma la strofa però cioè quello è cioè tanto che ci ridi sopra che poi diventa invece i personaggi seri cioè che poi li trovi chiamati dalle istituzioni beh beh già sta succedendo la diventa preoccupante se posso fare una domanda che non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando vai no vedo l'ora in questo da quant'è che stiamo in registrazione allora ragazzi è un'ora e dodici minuti di conseguenza è l'ultima sarà l'ultima domanda è perfetto perché è l'ultima curiosità sì cioè stare con te a parlare altre strive sì Federico io questo sono pensato il problema è che faccio una cosa faccio prima il ricamino e poi ti faccio la domanda il ricamino è che noi spesso e volentieri diciamo davanti alle telecamere questa è l'ultima volta che parliamo di Napoli puntualmente non è mai così stai pensando quello che ho pensato io forse non è mai così perché no non credo non è mai così perché perché quando si trova a parlare con quello che davanti a questo microfono dice io sono scugnizzo e che Napoli è bello ci vanno tutti bene eccetera ci guardiamo allo specchio diciamo bello è una parte di Napoli ne abbiamo parlato basta così quando ci troviamo davanti a questa parte di Napoli io ne girerei 850 di episodi perché Napoli è un posto che tu ogni angolo di strada hai una storia hai un libro da poter scrivere e quindi mi piacerebbe tanto io lascio lo spazio a te bello la domanda la domanda che vorrei farti è permisi come un occhio che dall'alto ha guardato Napoli evolversi nel tempo studiando studiando ok qual è la Napoli in cui ti sarebbe piaciuto vivere eh bella domanda no in realtà forse no ti so rispondere facilmente la Napoli romana la Napoli romana Napoli romana è sempre l'impero romano ragazzi io ci penso sempre ragazzi però perché probabilmente il momento della Campania Felix a parte che dovete tenere conto che la Campania Felix era la regione più ricca del mondo all'epoca conosciuto occidentale ovviamente e era una regione bellissima cioè il poeta Stazio che era napoletano che ha dedicato una poesia a Napoli alla moglie Claudia che era una attrice romana e per convincerla a trasferirsi a Napoli perché c'è questo bellissimo testo proprio dedicato insomma alla società dicendo qui il clima è dolce tutti i giorni e insomma cioè è l'unica cosa che pur stando lontana da Roma immaginate comunque una donna romana cioè che è nata nella capitale del mondo insomma all'epoca che diceva che meno di andare in provincia e lei dice sarebbe l'unica città che invece ti darebbe un sorriso proprio come la casa tua cioè vi giuro sono dei versi bellissimi per convincere a trasferirsi alla fine dunque ce la fa perché muore a Napoli stazio e tenete conto che doveva essere qualcosa da sogno c'erano ragazzi le ville di Lucullo c'era la zona di ragazzi Baia ma di che parliamo sì infatti qualcosina c'è anche qua sì ragazzi ma c'è qua ma era era la zona dei diversorum viziorum comunque dei la Sin City era chiamata Baia al tempo di Seneca per esempio tra lusso e dissolutezza esattamente ci siamo trovati tenete conto che Seneca scrive una lettera dicendo quanto è orribile Baia o sotto cielo sì perché allora secondo i romani il tuo carattere si forma sulla base del luogo in cui vivi si chiama determinismo ambientale questo in criminologia eppure ci credo un po' ci credo è interessante è una teoria molto interessante cioè dice il carattere tuo cioè quindi il carattere di un popolo si forma sulla base del territorio se è un bel territorio sarai molle sarai avvezzo alla letteratura alla filosofia a quelle cose che insomma la retorica romana così proprio non ci crederei però esattamente invece dice i sanniti benevento tutta quella zona là è una zona ruvida ispita fredda creato ovviamente degli uomini disposti a tutto insomma carattere duro militari perfetti invece noi qua da capua no gli ozzi a capuana quando arrivò Annibale si fermò lì ovviamente tutto bello tutto stupendo Baia tenete conto che dice è una cosa scandalosa che lì si fa festa ogni giorno fino a notte fonda ci sono piscine con petali di rose dove donne nude danzano giorno e notte ci sono barche cariche di cosi chiamate drappi orientali e ogni persona ormai in casa vedo cioè dice ha ogni sorta di ben di dio ma che popolo è che mollezza che orrore cioè tenete conto che paradiso in terra quella era Baia all'epoca dei romani quindi vi dico secondo me la Napoli romana è stata la Napoli prime è quella lì romana un'ultimissima cosa poi giuro la smetto veramente starei ore sai perché si dice quando viene a Napoli piangi due volte sei da dove viene vabbè quello in realtà l'ha detto Siani no no fermi veramente è per benvenuti al sud la citazione non credo questo non te lo so dire perché non ci ho affatto la storia se mi sbaglio si è sempre detto ragazzi non ho idea mi prendi impreparato su questo che io sa c'è la prima volta che l'ho sentito è a benvenuti al sud devo essere sincero quindi potrebbe essere ora che qui potremmo aggiungere una minaccia di morte le di Napoli poi muori quella è di Goethe insomma lo ha detto meno male chiudiamo con Goethe e non con Siani non me ne voglio Alessandro Siani ma abbiamo parlato di Goethe di poeti di storici eccetera chiudere con Alessandro Siani sarebbe stato che è un poeta contemporaneo strano ok no 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 però sì grazie mille per dire qualcos'altro che ti ha fatto proprio malissimo ma ragazzi che sei dell'oracolo no sì 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 perché ecco questo forse volevo dire come ultima cosa abbiamo sempre detto basta parlare di Napoli abbiamo parlato in tutte le salse come ha detto Giovanni prima sono contento che abbiamo parlato per l'ennesima volta di Napoli non solo per quello che hai detto tu ho capito cosa intendevi non è solo per quello e non ci posso fare niente a me le storie piacciono troppo ed è per questo che nasce Espresso Podcast è vero e Federico ci ha raccontato delle storie bellissime eh ragazzi allora non parlare di Napoli io di questi recupererò tutti gli altri no ma io ve le regalo io non vi preoccupate ma purtroppo solo il primo non c'è più è finito però vi mando il pdf grazie no piuttosto a questo punto no sono d'accordo basta parlare di Napoli parliamo della campagna la prossima volta ve la lancio io volentieri dai ok vai ve la lancio io andata grazie per essere passato al podcast è per il caffè grazie a voi